Ok gente, non sarei tornato così in fretta, stavo per riposarmi un po' ma ho ricevuto un'informazione vitale che voglio condividere con te il più velocemente possibile perché oggi ho ricevuto una mail da un ragazzo e lui ha detto dove ho visto prima col cratere e ha condiviso un link. Così ho iniziato a guardare questo video, niente di speciale, un tipico film della Nasa di stronzate, beh, questo era quello che pensavo. Così ho chiesto a questa persona dove vuoi che guardi? Ma nel frattempo che stavo guardando questo video, l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era che stava cercando di mostrarmi un cratere e l'unico filmato dove potresti vedere un cratere, bene, è quello che stai guardando adesso. Quindi l'ho guardato ancora e ancora e ancora, non so se lo vedi ma io ora lo vedo. Così quello che stiamo guardando in questo momento è qualcosa del genere. A sinistra vedi il nostro cratere lunare sul Piscius Gallus M, la nostra biosfera, a destra il filmato dello shuttle. Quindi penso che stiamo guardando ora le prime immagini in movimento del nostro cratere. Facciamo un fermo immagine e facciamo alcuni confronti. Ricorda che la luce proviene dall'altra parte, dalla parte della navetta. Dovrebbe essere... la collina e diamo lo sguardo al cratere stesso e da vicino e lì vedi la prigione del pianeta Terra, il muro di ghiaccio. Beh, alcune persone potrebbero avere i loro dubbi, ma sono abbastanza sicuro che questo sia reale. Un'altra cosa che noti ovviamente è l'atmosfera sulla Terra più grande. Eh sì ragazzi, scusate, è una palla. Alcuni terraplattisti non apprezzeranno questo. E se questa è la loro velocità reale di volo... Bene, se queste sono immagini di astronauti volando sopra la Terra più grande, allora tutti gli astronauti devono essere a conoscenza del segreto, il che significa che tutti possono essere condannati per crimini contro l'umanità. Capisco ovviamente che sono piccoli, soldati ricattati, terrorizzati, quindi sarebbe difficile per loro far trapelare la verità. Ma come ho detto prima hai una responsabilità per l'umanità. inoltre il gioco è finito ora, quindi direi che apri i cancelli o affronta le conseguenze. un po' più tardi ho voluto mostrare questo messaggio a mia moglie. ma non c'era più, che strana storia. Stavo pensando a questo per tutto il giorno, penso che quello che vediamo qui è la divulgazione da parte di qualcuno con informazioni privilegiate. Questa non è la falsa rivelazione aliena, ma la vera rivelazione. Vorrei quindi ringraziare questa persona per il suo coraggio. E se fosse un messaggio di qualche pazzo, mi congratulo con lui per la sua fortuna. Quali sarebbero le possibilità? Beh, se questo è vero, potremmo vedere le prime crepe nel sistema. Ti chiederei quindi se sei annoiato e non sai cosa fare. Bene, potrebbe essere il momento di dare un'occhiata a tutte queste immagini della navetta e cercare alcuni crateri. Confrontarli con la superficie lunare. E se vuoi prendere una barca e attraversare il muro di ghiaccio, per favore, torna vivo. Prendi un po' di immagini. Abbiamo bisogno di più prove. Ok, questo è tutto. Finalmente voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno inviato alcuni messaggi veramente carini, con alcuni incoraggiamenti, alcune idee, collegamenti video, occasionalmente un tro qua e là. Purtroppo non posso reagire a ogni commento, perché è semplicemente troppo. Grazie a Quantum of Conscience e un ringraziamento speciale a John Levi per aver collegato il mio canale. È stato come essere colpiti da uno tsunami con migliaia di iscritti e reazioni. Beh, un bel viaggio. Grazie ancora. Ciao.